e si parte per un nuovo giro in mountain bike anche in questo caso insieme a piero sperando che abbia meno problemi siamo sempre sulla zona degli sterati del conero in questo caso taunus valcastagno musone portore canati e altri giretti qui vediamo tutto il percorso che abbiamo fatto siamo al primo di agosto e vediamo qui lungomare ritorno su verso poi valcastagno e ritorno a casa al taunus 48 quasi 49 chilometri 2 ore 47 271 metri di aumento di quota e iniziamo questo giro scaldando la gamba in questo tratto di salita che stiamo per intraprendere nel villaggio taunus e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite questo potrebbe essere uno di quelli se volete potete seguirmi su strava in modo da avere i dettagli di tutti i giri che faccio volendo potete seguirmi anche su tutte e perché no anche su instagram grazie mille Grazie. 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 Guarda quanti alberi rotti. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da lassù ci buttavamo giù sul discesone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non so, questi mi sembrano anche abbastanza ben tenuti, quindi se li han segati vuol dire, vedi anche di lì, quindi vuol dire che è passato di qua, sono segati di fresco questi. Vedi anche lì quanti ne mancano, guarda. E il taglio è fresco, guarda che roba, c'è rimasto niente. Ok. Ieri mattina non sono venuto al mare perché è venuto quello che ci fa la potatura degli alberi per rimuovere i due rami che si sono rotti sul nostro albero. Tutto sommato è andata bene. Adesso sono curioso quando andiamo giù a sinistra di vedere cosa c'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guarda, guarda che roba. qua. 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 questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati guarda altri video ce ne sono di vari generi questo giro con Piero continua ciao alla prossima